Ciao ragazzi, ben arrivati di nuovo sul canale Patronopei siamo noi, pronti per questa partita di fondamentale importanza, perché dobbiamo toglierci un po' tutto quello che è stata la tossicità che la partita contro il Milan ci ha messo addosso, quindi dobbiamo vincere e se è possibile anche convincere, quindi per recuperare un po' di tranquillità, non è un campo semplice, lì ce lo sappiamo bene, lì c'è stata l'unica squadra che a San Paolo è andata sotto e riuscita a pareggiare, quindi non è una partita semplice, speriamo bene e sempre Forza Napoli, è iniziata Forza Napoli, Madalda, ma che è tirato, come è tirato tu non hai chido sui, dalle a stalla, la stai perdendo, stai alla spalla mi fai imparato, dalle! Guardi! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! CAPITANO! 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 GOOOOL! GOOOOOL! 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 CAPITAANO! bravo va bene finito il primo tempo partita difficile stiamo vincendo ma partita difficile speriamo bene per il secondo è iniziato il secondo tempo forza Napoli mannaggia miseria da zon ma io e papagamma per che cosa ma questo servizio è merda maia maronna maia che culo io ce l'ho così maronna gol 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 come tanti è venuta è venuta è gol è gol è gol 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 brand gol 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 gol